Libri a caratteri grandi per agevolare la lettura. Circa 20 testi arrivati nella Biblioteca Scarabelli di Caltanissetta nei giorni scorsi donati dalla Biblioteca Italiana per i povedenti Bionlus. Si tratta di libri che facilitano la lettura appunto a persone anziane con la vista indebolita, i povedenti o con ridotte capacità visive, e che vanno dai libri per ragazzi alla narrativa, e presentano delle specifiche caratteristiche di impaginazione, come la grandezza dei caratteri o gli spazi tra le parole e lettere. Si tratta di un'iniziativa propostaci dalla Biblioteca Nazionale per i povedenti, la Bionlus, che qualche tempo fa mi contattò proponendomi l'offerta di alcuni testi per la Biblioteca che potesse raggevolare e facilitare la lettura della persona con problemi di vista, che non è il cieco ma che la persona potrebbe essere il dislessico oppure comunque la persona che ha difficoltà nel leggere da vicino, nel guardare da vicino. Io ho accettato di buon grado questa iniziativa perché sono testi offerti gratuitamente, donati alla nostra Biblioteca, e finalmente abbiamo concretizzato questa iniziativa da alcuni giorni fa con l'arrivo dei primi testi che spaziano dalla narrativa ai libri per ragazzi, ai libri di storia e quant'altro, con la promessa che da qui fra un po' ne arriveranno degli altri. Ho ritenuto e ho accettato subito queste iniziative e ho pensato di collocarli in un posto, di concentrarli tutti in un unico scaffale, in maniera tale da essere ben visibili e identificabili. Comunque l'utente interessato alla lettura di questo tipo di testi si può sicuramente visitare il nostro sito caltanistetta.sebbina.it e vedere quali sono attualmente i testi disponibili. Questo con l'augurio che possa servire al cittadino, all'utente che fino ad ora magari è rimasto un po' emarginato nella lettura e così possa più facilmente accedere allo studio o all'interesse per qualunque tipo di lettura.